Mercoledì, mi prometti che fai la buona? Che stasera facciamo una cosa bella con Nensi, Nunziatina, a Sai a Nunziati? Tu a Sai o no a Nunziati? No, però devi fare la buona, perché altrimenti facciamo brutte figure in diretta. Tanto sai, Nunziatina è sempre in ritardo, eppure stasera ci farà aspettare. Però stasera succede una cosa bella, perché Nunziatina si racconta e ci... No, però non correre, è mercoledì. Mi devi fare la cortesia, devi essere un cane educato, altrimenti facciamo una brutta figura in tutta la campania. Siamo su TV Campane 1, canale 645. Dopo ti faccio vedere come vieni bene in televisione. Adesso stanno a un po' cuscuro. Viva i cani, viva sempre i cani. Pino, posso fare una videochiamata con Nensi, così vedo Nensi dove sta? Aspetta, sì, un attimo solo che facciamo il collegamento. Proprio dammi dieci secondi. Allora, facciamo come facciamo alla radio. Io la chiamo, le do un appuntamento. Lei mi dice, sto venendo, sto venendo. Guarda, sono a me. Antonio, ci sei? Attenzione che è pronta la videochiamata, sta arrivando. Ok. Vediamo, la dovrei vedere. Nensi... Escoli, sì, sto arrivando. Eh, già lo sai. No, no, ti giuro che stavolta sono puntuale. Ma chi ti crede, Nensi? Ma chi? Credici. Da poco mi sono finita di preparare. Ah, sì. Vabbò. Sì, sì, mi sono avvicinata e tutto. Sto arrivando. Ok, mandami un bacio, va, non sia tina. Mandami un bacio. Un bacio? Eh, voglio un bacio. Mua. Sto venendo. Non ti preoccupare, sto venendo. Ciao. Me l'ha fatto già tre, quattro volte alla radio. Ma guarda, vieni a mezzogiorno, eh. E poi in realtà è arrivata sempre a mezzogiorno e vinti. Ma vedrai mercoledì che prima o poi arriverà. Intanto, tu vuoi sapere qualcosa da Nensi? C'è qualcosa che ti interessa di Nensi? Ettore. Eh? Ma Nensi sta arrivando, eh. Mi dai. Già sta nelle vicinanze. Guarda che ora arriva, eh. Allora, aspetta, aspetta. Facciamo una cosa nuova, però. Datemi l'inquadratura del vialone. Noi siamo nello studio 1 di TV Campane. Ecco. Sta arrivando. Adesso lo dovreste vedere anche voi da casa. Chi guida la macchina, Carmine? C'è Carmine che guida? Penso di sì, perché Nensi, figurati. Ma Nensi sa guidare? Sì, c'era la potente, sì. Allora, questo è l'auto di Nensi. Questo è il vialone che porta allo studio 1 di TV Campane. Eccola là. Casper, è stata puntuale. Allora mi stava vigliando in giro prima. Eccola qua. Il tempo di farla arrivare allo studio. Cari telespettatori, questa è una serata interessante perché Nensi si racconterà e dirà cose che non ha mai detto. Mercoledì non ti mangia u in saglia. Grazie. Sta arrivando. Questo è l'ingresso del nostro studio. Appena entra Nensi, mi accendete un po' le luci così riesco a vederla bene. E voi fate un applauso, chiaramente. Allora, il fatto che tu sia stata puntuale è un evento. Allora, adesso ci organizziamo. Non eravamo pronti a non rompere le calve di Nuziatina. Allora, il fatto che tu sia puntuale è un evento, quindi noi ci organizziamo. Perdonami Pino se ti do problemi con il microfono. e mandiamo la sigla e torniamo tra poco. Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera a te. Allora, ciao cari, come stai? Tutto bene. Allora, lei è mercoledì, tu la conosci? Sì, certo. È stata a casa mia. Lei è un po', come si dice a Napoli, un po' che insiste. Insiste anche perché abbiamo aperto in bellezza e mi ha sfilato le calze. Ecco, quindi una gamba e Nensi coppola. Quest'altra parte è Nunziatina. Eh, Nunziatina, perché Nunziatina ha dato né i cazetti sfilati, se no che Nunziatina. È normale. Senti, allora, io l'ho fatta entrare e fa la trasmissione con noi fin dove regge, perché, allora, lei ha una caratteristica, è insista. Sì. È un po' come te. È certo. Perché tu si insista. Soprattutto. E allora volevo sapere se sei insista da sempre. Ma da piccolina no. Ah. Da piccolina no, perché io ero una ragazza, cioè una bambina abbastanza tranquilla. Mia mamma lo dice sempre. Aroam te la truava. Tu? Io sì, non sembra, però sì. E da quando poi ho iniziato, ecco, questo percorso artistico, ecco, purtroppo, avendo a che fare con tante persone, sia donne che maschietti, soprattutto con i maschietti che comunque fanno parte del campo, ho dovuto quindi cacciare le unghie. Ecco. E' un po' di cazzimma, è certo. Allora, stasera Nancy si racconta e lo facciamo attraverso le fotografie. Però tu lo sai, scusatemi, sono pieno di peli, ma viva gli animali, viva i cani. Fate un applauso ai cani. Non me ne frega niente che vado in onda. Allora, dicevo, insomma, questa è l'epoca dei social, di Facebook e roba varia. Quindi tutti abbiamo le fotografie sugli smartphone e roba varia. Esatto. Noi abbiamo deciso di fare una cosa antica, cioè le vecchie fotografie, ok? Sì. Anche perché delle fotografie che vi faremo vedere sono veramente vecchie. Sì. Ma non perché tu sia anziana, ma perché il tempo passa per tutti, voglio dire. Allora, attraverso queste fotografie che Nancy mi ha portato e che ha portato a tutti voi, noi racconteremo molte cose di Nuzia Tina. Come la chiamo io. Allora, intanto questo è Leggio, gli operatori avranno da inquadrare il meglio di Nuzia Tina. Volevo dire a quelli che sono a casa di registrare la puntata, perché queste sono, scusatemi, tolgo la mano. Allora, perché queste sono foto inedite che non esistono. È vero. Se avete bisogno, insomma, se volete tutto di Nancy è il caso di registrare. Non so come farà Anna Raimau, starai schiattando perché non puoi registrare. Queste foto non ce l'hai. Allora, piccola qui. Vedi, là sono, qua avevo 7-8 mesi. 7-8 mesi, che bella veste che te ne vengono. Dove stavi? Ti ricordi dove stavi? Non ricordo, però mamma me lo diceva sempre, che qua stavamo dove abitava nonna, a San Giovanni a Teduccio. Ma tu dove sei nata? Io siamo nativi di San Giovanni a Teduccio. Sono cresciuta là con i miei genitori. Poi ci siamo spostati in un piccolo paesino che si chiama Pollenatrocchia, dove sono cresciuta. La mia infanzia la maggior parte l'ho trascorsa lì. E poi sposandomi mi sono spostata a San Giorgio a Cremano. Oh, ho capito. Dove siamo vicini, diciamo. Allora, questa qui eri piccola piccola, quella a fianco eri già, insomma, la Nancy Coppola, già si vedeva, già si intravedeva in varietà in qualche modo. Guarda, ma se tu te ne sei accorto, io qua sono bionda, e quindi è totalmente diversa da quello che sembra. Ma è il tuo colore? Sì, sì, sì. Non penso che ti facevi... No, 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 sono bionda, in effetti. Le persone mi hanno conosciuta nera, no? Vabbè, lascia stare che ogni tanto cambiamo colore per cambiare un po'. Adesso sì, ho cambiato, stasera non sono più rossa rossa e sono un viola. Sei viola, no, no, questo è bello però, questo mi piace. Senti, aggiungiamo questa, credo sia un carnevale. Suppongo che sia carnevale, adesso la regia ci dà, guardatela qua. E qua ero la principessa delle nevi, cioè della neve. La principessa? Sì. Ho capito, molto bene. Tu ti sei mai sentita principessa? Vabbè, la principessa un pochettino da piccola, come lo sono tutte le bambine, no? Un po' per il papà, per la mamma, la principessa della casa, no? Sì. Quindi da piccola sì, vabbè, anche oggi, voglio dire, mi sento un po' la principessa di casa, anche perché anche a casa sono sempre sotto i fari, chi mi chiama qua, chi mi chiama là, mio marito, mio figlio. Mi chiamo Nelzi. Senti, voglio sapere se ti ricordi il primo giorno di scuola, te lo ricordi? Parliamo dell'asilo? No, parliamo dell'elementare, dai, l'asilo. No, io parlo anche dell'asilo perché ci fu, diciamo, una cosa un po' particolare. Cioè che innanzitutto sono andata all'età di quattro anni, non dei tre anni, perché ero troppo affezionata ai miei genitori, quindi non volevo proprio a scuola. All'età di quattro anni, mia mamma mi mise all'asilo, e quindi quando andai all'asilo, io la cosa che ricordo bene è che io ero un po' schifettoso, e quindi quando mangiavamo a scuola mi dava fastidio alcune cose dei miei amici, tipo se bevevano vicino a me oppure c'erano dei bicchieri che ci davano poi le suore, no? Antipaticissima. No, avevo un po' questa cosa, sia io che mio fratello, anche mio figlio. E quindi che facevi? Vattiva? No, mi spogliavo e facevo chiamare la suora, la mia mamma, diceva, dovete venirla, a prendere perché... Ti spogliavi? Mi spogliavo. Nuda? Pensi sì, non lo so, no, nuda proprio no, però mi spogliavo, camicia, capito? Cos'è, una sorta di rivolta? Mi spogliavo, proprio al punto che le suore diceva, no, signora la dovete venire a prendere perché vostra figlia si è rispogliata. Ho capito. Capito. Ti pigliava una pazzia, secondo me. Una bimba che bella e buona si spoglia. Scusa, mentre ti spogliavi, poi i bimbi dell'asilo, tranquilli? Erano bambini, piccolini, non c'era malizia, eccetera. Ma anch'io, non c'era malizia, guardi, mi sto rossendo. No, non devi rossendo. Senti, ma la tua che famiglia è stata? In che senso? Cioè, nel senso, per esempio, tu che mamma hai avuto? Vabbè, la mia mamma ancora oggi è una mamma affettuosa, una mamma che mi dà tante attenzioni, ovviamente, come tutte le mamme. Altrettanto, il mio papà, forse da piccolina, è stato un po' più... Amoriggiava di più. Poi, da grande, è diventato un po' più orgoglioso. Ovviamente è diventato un po' più il papà padrone, geloso, poi del fidanzato. L'orgoglio a volte nasconde anche i sentimenti. E questo sì. Questa è la mamma, vedi? Questa è una foto della mamma e adesso la regia ce la manda in onda. Io ho parlato con la mamma di Nunziatina. Qua è qualche mese fa. Ed è una mamma orgogliosa del successo della figlia e orgogliosa del fatto che la figlia ce l'abbia fatta da sola. Cioè, questa è l'impressione che ho avuto parlando con tua madre. E la salutiamo che ci guarda. Ecco, e la salutiamo. Infatti la mamma mi raccontava, guarda che Nunziatina ha fatto un sacche lavori. È vero. Primi facandante. Che lavori hai fatto prima? Eh, di tutto e di più. In pratica io lavoro a 15 anni. Sì. Sono andata in una fabbrica che faceva le selle per i motorini. Ah. Pedalini, le selle, queste cose qua. Ma ero piccolissima. Eh. E prendevo 250.000 lire. Al mese? Alla settimana. Uai, erano assai. Erano assai. Erano assai. Però comunque non bastavano, perché comunque aiutavo mamma a casa, visto che erano dei periodi un pochettino burascose, diciamo. e niente, poi man mano, oltre a quel lavoro ho fatto anche la commessa in un punto vendita di detersivi. Sì. Eh, ho lavorato al bar Eccezior a Ponticelli. Ah. Ho fatto un po' di lavoro. Che facevo? Caffè? Aiutavo, diciamo, al barman. Ma fammi la faccia della commessa. Che faccia alla commessa? Eh, la faccia tranquilla, penso. Tranquilla. Prego. Prego. Anche davanti ai clienti un po', insomma, quelli un po'... Ma, ti ripeto, prima che io facessi questo lavoro, ero totalmente diversa caratteralmente. Ah, ecco. Sì. E forse ero più chiusa, più timida, capito? È stata canzone, praticamente. Ma pensa che, io ho iniziato a fare anche piano bar, prima di incidere il primo album. Ho fatto circa due anni di piano bar, ma io cantavo solo. Ah. Non dicevo nemmeno buonasera, perché avevo così vergogna, ero così timida, capito? Che facevo poi in pratica tutto il... Ma che cantavi? Anche le canzoni italiane, le cose... Sì, italiane, vabbè, cantavo pochissimo il napoletano, però comunque la mia passione era quella di cantare il napoletano. Ma ci arriviamo. Allora, se mi inquadrate questa fotografia, perché qui ci sono mamma, papà e il piccolo Vincenzo. Sì. Beh, devo dire che sono belli sia mamma che papà, insomma, papà sembra un attore addirittura. Sì, no, papà è... A parte che mamma è sempre stata una bellissima donna, papà è lo sempre... Cioè, babbo, io l'ho sempre visto come un attore. Ma infatti c'ha la faccia dell'attore, c'ha la faccia dell'attore americana. Sì, infatti anche lui piace... Lui è un cantante mancato, eh, voglio dire. Ah sì? Tutta la mia famiglia, i miei zii, le mie zii, i miei cugini, amano tutti quanti cantare. E ce l'hai fatta tu? Eh... Sì. Ti amano i tuoi cugini tutti? Sì, sì, sì. Sicura? Sì. Sei certa? Sì, 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 sì. Senti? Penso di sì. E poi c'è un fratello. È mio fratello. E poi c'è un fratello. Diciamo che artisticamente a realizzare un disco, un qualcosa di proprio, siamo stati gli unici. Poi ci sono tanti cugini miei che quando ci riuniamo per fare delle feste cantano la maggior parte quasi tutti quanti ed hanno tutti quanti delle bellissime voci, compresi i miei zii che ci guardano. Un bacio a Zio Gennaro, Silvia, tutti quanti. Allora, Gino c'è la competizione, non credo. Mi inquadrate queste foto con Gino che sono bellissime? Ce n'è una in particolare che credo risalga a quest'ultimo periodo, no? Perché è la foto del video, giusto? Allora, no, questa che io vedo sulla sinistra è una foto che facemmo per il mio concerto. Ah, ok. Dove siamo qua nella sala verde, diciamo. Sì. L'altra, siamo al battesimo della mia nipotina, dove ero la madrina. Ma tu sei più grande rispetto a lui? Sì, di circa due anni. Lo hai aiutato? Artisticamente parli? Sì. Sì, mio fratello ha iniziato come fonico, era il mio fonico, per un anno e qualcosa. Lui è anche lui molto timido e si è sciolto un pochettino venendo con me, venendo con me e vedendo il pubblico come reagiva, come interagiva con me. Pian piano poi ha realizzato il suo disco, abbiamo fatto un duetto e si è sciolto da solo con le sue trasmissioni, infatti questo era il consiglio che gli davo, fai le trasmissioni da solo, senza il mio aiuto, in modo che tu ti sciogli man mano a parlare, perché ovviamente non l'aveva mai fatto, era timido, ma come la stessa cosa per me, io ho iniziato le trasmissioni, vabbè all'inizio le ho fatte qualcuna con Gino Aberti che saluto, con Diego De Luca, Vincenzo Junior, ho fatto tante, che saluto, tante trasmissioni con tanti colleghi, poi ho iniziato con il primo disco che io cantavo le canzoni di Maria Nazionale in tutto ciò, infatti lo so, ti volevo far cantare una cosa, perché una sera mi hai raccontato un episodio, allora abitavate in un condominio, e tu non avevi ancora cominciato a cantare, cioè non era arrivato ancora il grande successo, che cosa faceva Nunziatina? Usciva fuori la porta, si metteva in mezzo alle scale e cominciava a cantare, cantavi un po' di un pezzo della Nazionale così, un po' a cappella, quello che vuoi... Sì, però di pensi, voci gucciente innamorata, ma di pensi, ci metto tutto geni, ma sembra di pensi... Allora, devo ringraziare Pino Fontana, perché ha messo un effetto sulla voce, che è quello simile a quando canti lungo le rampe delle scale, insomma in un condominio, perché c'è quella sorta di eco, quella roba, la voce sembra che si sdoppi, e allora Nunziatina alle tre del pomeriggio, alle due del pomeriggio, a che ora, sempre in da controllo, quando c'era Beautiful in televisione, c'è ancora Beautiful in televisione, e quando qualcuno fa la pennichella, Nunziatina si metteva in mezzo a scale e cominciava a cantare. La mamma chiaramente preoccupata, Pino avvertimi se non si sente bene il microfono e ti chiedo scusa, e la mamma preoccupata diceva Nunziati non cantare in mezzo a scale, perché la gente vuole dormire, però poi la gente, le signore che a quell'ora erano a casa, uscivano e dicevano no ma falla cantà, che la canta troppo bella, quindi era una sorta di radio nel condominio, insomma. Eh sì, che addirittura il mio vicino, era all'inizio, diciamo, io ascoltavo le canzoni di Gigi Finizio, rimanevo a casa, invece di andare con le mie amiche a giocare, amavo proprio, infatti mia mamma diceva che questo non può fare niente, smettere la mattina e la sera, e vuole ascoltare solo lo stereo, ma come mamma fa? Sì. La mia mamma, eh beh, ma io infatti amavo, avevo questa passione, ma non immaginavo un giorno di poter fare questo lavoro, cioè questo per lavoro. E così il mio vicino disse, guarda, io ho un mio amico che fa piano bar, io, pesfizio, ti voglio presentare a lui per vedere magari se abbiamo ragione noi, se hai una bella voce, se lo puoi fare o meno. Ma io non è che non ci credevo, ma non sapevo proprio come si potesse realizzare questa cosa. Quindi andai a casa di questo suo amico, si faceva piano bar. Io gli cantai Ipocrisia, che era una canzone che mia mamma mi cantava spesso. Come fai Ipocrisia? Ipocrisia Stanno i miei tiscali. Gettare l'acqua e avere tanta sete, morire d'amore e dire non è niente, desiderarti e far l'indifferente, l'indifferente. Ipocrisia Questo sorriso che nasconde il pianto Altro non è che maschera dipinta Vorrei gridarlo che io sto fingendo E che di gelosia Io sto morendo E' bello questo effetto Miseschka E' bellissimo Senti, ma è vero che tu morivi di passione per l'Ello Donofrio? Mamma mia! Ti ricordi questa cosa? Io ero pazza di l'Ello Donofrio Mi ricordo che mi hai raccontato che hai pianto Perché una sera l'Ello Donofrio aveva un concerto in piazza a Pollenatrocchia A Pollenatrocchia E tu non potevi scendere perché? E perché babbo non c'era E mamma lavorava la mattina presto E quindi dovete andare a letto prestissimo E non mi potete accompagnare Io per la prima comunione Essendo che non c'erano soldini Non potete realizzare questo sogno di invitarlo alla mia comunione Così una sera ero a casa E all'improvviso mi arrivò Era in estate Mi arrivò questa voce Da lontano E io facevo Ma io la so questa voce Ma mi sbaglio? Poi chiamiamo mio fratello Ma è l'Ello Donofrio Sai io poi impazzita Mia mamma niente Non mi potete accompagnare Io piangevo fuori al balcone Tutto il tempo del concerto Fin quando poi non finì Ma l'Ello Donofrio lo sa? Lo sa, lo sa questa cosa Senti ma che cantava? Che cantava l'Ello Donofrio? Ti ricordi? Ti amo, ti amo Come faceva? Ti amo, ti amo Io ti amo, ti amo, ti amo Ti giuro mio cucciolo Ebbè poi è passato un po' di tempo Allora Che succede? Succede che tu incidi il primo disco Sì Ok E incidi il primo disco Lo sapevano in casa? Mamma lo sapeva? Papà no, giusto? No, allora Ti spiego Il disco l'ho inciso con il maestro Antonio Lardi Sì Che salutiamo Sì Con lui ho fatto due anni di piano bar Ok Nel frattempo che facevo piano bar Andammo a trovare mio padre Sì E dove mio padre non sapeva questa mia passione Questa mia voce, questa dote Comunque innaturale Così io gli cantai alcune canzoni Che lui disse Mamma mia Però aspetta Eravate in una piazza? Eravamo in una piazza Ehm Per alcune ore Ok Ok E lui disse Mamma mia C'è la quietudine qua C'erano gli uccellini Come volessi sentire Come volessi sentire Una bella canzone Napolitana Napolitana E tu cosa cantaste? Io gli cantai un po' di Volacardilla Tu cantala ti prego Ti prego Cantala E tu sei prigioniere Comami Ma non può stare così Sì, tu sei una uccellina O solo uccelli O mare Torna a te Evo la uccelli va Evo la uccelli va Evo la uccelli va Mamma mia Questa canzone Com'è bella È bellissima Sai che effetto Mi fa questa canzone Non lo so Mi Mi mobilizza Cioè Non lo so Ho bisogno È come se avessi bisogno Di qualche secondo Poi per Per riprendere Tutte le attività Anche a me Anche a me Va sempre Papà Che ti disse Poi sentendo cantare Essendo che è una canzone Che comunque a noi Colpisce tanto Certo Ancora oggi Voglio dire E niente Piangeva come un bambino E disse Le parole che disse Me le ricordo benissimo Ma che ti Non riavole un guerp Che meraviglia Perché giustamente Io inizia a canticchiare Questa canzone E lui disse Ma resciute Con questa voce L'ho lasciata Bambina All'improvviso Me la ritrovo Che c'ho Una bella voce Ovviamente canticchiavo Non avevo esperienza Come oggi Ma che ti Non riavole un guerp Eh sì Perché ero intonata Però comunque Già facevo i miei corgheggi Le mie corone E quindi Poi lui aveva Questa passione da anni Voglio sapere una cosa Ma poi In tutto questo tempo No Quindi Il piano Il piano Var La voglia di cantare La commessa La fabbrica Ma ti eri già innamorata Di qualcuno? Allora sì Avevo avuto Delle cotte Sicuramente Ma il primo Te lo ricordi Il primo ragazzo In assoluto Il primo fidanzato? Eh sì Come si chiamava? Tocchiamo alcuni tasti Un po' Vive a Napoli? Allora Purtroppo Il primo amore Non c'è più Oh caspita Ho toccato un tasto brutto E allora parliamo del secondo Nel senso che mi dispiace moltissimo Me ne dispiace moltissimo No vabbè Di solito si dice Il primo amore Non si scorda E infatti non tu scorda mai Esatto Esatto E il secondo invece? Il secondo Vabbè ci sono state Allora io non sono mai stata una ragazza Durativa Come devo farti capire Dopo la prima delusione Eh? Le storie non sono mai durate a lungo? No Ho frequentato qualcuno Ma niente di importante Ecco Poi è arrivato Carmine E poi E perché per quello che penso io Che ho sempre pensato di te Che tu sei troppo omma Bravissima capi? Ovvero troppo omma Tu sei troppo omma Però poi c'è stato un momento No ma anche perché io a volte Sai mi bloccavo Cioè perché non mi lascio andare? Perché non riesco ad innamorarmi? E qual era la risposta? Eh forse per la troppa delusione Che avevo avuto dal primo amore Capito? Ho capito Ma la delusione Cioè nel senso Il dolore dovuta Avevo avuto una delusione Da quell'amore Ok Dopodiché lui voleva ritornare e recuperare E io sai per orgoglio Gli dissi di no Dopodiché successe Questo brutto incidente E io per rimorso Sai sono stata un pochettino male Il canto La musica mi ha aiutato tantissimo Ad affrontare Capito? Il primo bacio te lo ricordi? Vabbè sono state cose da ragazzini Ma come vuoi fare? Sì no dico cose da ragazzini Sì me lo ricordo Dove stavi? A Pollena Trocchia? A Pollena sì Stavo In piazza? No andammo a una festa Una festa di amici Anche io ho dato il primo bacio ad una festa Ma non ero tu un pochettino tu? No no Ti assicuro no 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 non era possibile Ma non eri fatta così No ma manco tu Ma non ero più queste mediche Una ventina di anni No No non è possibile E quindi eri ad una festa E insomma Classica festa con No tu non sei dell'epoca del gira di schizzo Era 13-14 anni Erano feste degli amici di scuola Dansanti? Scuola media Capito? Ah scuola media E lui ti piaceva? Sì però No ma voglio sapere Dopo il primo bacio Che pensaste? Oddio che brutta lingua che c'ha No se ti dico che ho fatto No? Se ti dico che ho fatto Dopo il primo bacio Ti sei andato a lavare i denti? No Aspetta Di peggio E che fa? Stava lui davanti Non sapevo che dovevo fare Allora lui mi dava il primo bacio Non sapevo i gesti, i movimenti E quindi quando lui si girò Mi faceva E vabbè sì Era una bambina Ma chissà che ha fatto? Ma c'hai la pista per la pulizia Per l'igiene Ma sei malata? Ma come? Infatti lo sopportate Capito la cosa? E lui poi ti Ebbè lui non se ne ha accorse penso Perché lui si girò E poi mi hanno fiatto proprio Ma c'è te vede chi Allora Succede che una ragazza Nella fase della crescita Poi nel suo caso insomma Cresciuta Con il successo Che stava per incominciare Tutta l'attenzione Si guarda allo specchio E vede che qualcosa Non va proprio bene 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 Ecco Allora E no Perché per esempio Ci sono attrici italiane Che hanno fatto Dei loro difetti Una grande forza Sì Ok per esempio Prendi Anna Mazzamauro Te la ricordi? Che faceva i film con Fantozzi Se non fosse stata così Non l'avrebbe fatta lavorare nessuno Ma te ne potrei citare tante altre Sì Insomma non si attina Si guardava allo specchio E diceva Ma aspetta Ti tengono così troppo Insomma Tengono montagnello Tengono fatte Come si è cattivo E allora Speriamo di scegliere La foto giusta Che io abbia scelto La foto giusta No che sono andata Nella montagnello È bello Non c'era la montagnella Scusa no Facciamola vedere Perché altrimenti Ci capiamo solo noi Allora Qui la montagnella Non c'era Qui era dopo la montagnella Dopo la montagnella La fanciulla Allora Vediamo se trovo la montagnella Sapete qual è il problema Che la signora Mi ha dato Quando aveva la montagnella Mi ha dato tutte le foto Da lontano Che non si vede Ma io quando teniva la montagnella Mi creavo Lui il problema Ecco Non mi facevo Qua teniva la montagnella Sì però non si vede Perché stavo Capito Sì Allora Vediamo intanto anche questa qua Ma ce ne sta qualcuno Con la montagnella La già trovo io Oddio è caduta Qual è Scusami di questa Dove si vede bene Sta montagnella Eccola qua E che sapere Non si vede niente E papà Ma mica ti potevo Prendere la fotografia Allora Allora Possiamo avvicinare un po' Grazie Eccola qua Ah no Forse questa si vede Meglio Chiedo scusa alla regia Avvicinatevi Più che posso Allora Vedete che c'era Un naso un po' Allora Un po' come il tuo oggi Diciamo Che c'è? Ma io ho fatto dei miei difetti La mia forza Cioè se io non fossi così Un cesso Non andrei da nessuna parte E cioè voglio dire E allora Poi non ha giocantato Eccolo Che devo fare Allora Vedete che il naso qui Era prima Prima di una cosa Che poi oggi si porta moltissimo Cioè la plastica Tutte quelle robe Barbarella In tv Ne ha fatta Cioè a parte Del suo successo E Decidesti da un giorno all'altro Di rifarti un po' Questo casino? No Diciamo che ho sempre avuto Essendo che da bambina Io e mio fratello Sì Amavamo giocare a nascondino Sì Dove vuoi arrivare? Ti spiego Mi nascosi nel bagno Sì E Eravamo in una pizzeria Quando mio fratello mi trovò Solo che La porta non si apriva Sì Lui per aprirla Diede un calcio Sì E mi è successo Che la porta Capito Urtò il mio bel nasino Ma io non ci crederò mai Ti giuro Ma non ci crederò mai Ti giuro Così è successo Così è successo Veramente E quindi poi da allora Ebbi dei problemi anche nel respirare Eccetera eccetera E siccome comunque Ecco Affrontare un'operazione di chirurgia plastica Occorrevano sempre i soldini I soldini E quindi non c'era questa possibilità Poi ovviamente con il primo disco E poi arrivò il secondo Sì E poi arrivarono i soldini E quindi? E quindi decisi di operarmi E di realizzare questo sogno Senti ma è vero che si sente dolore assai Ma ti posso dire che io sono felicissima E lo rifarei Lo rifarei altre cento volte Se ce ne fosse il caso E la prima volta che poi ti guardesti allo specchio Eh guarda La prima volta è stata una delle giornate più belle della mia vita Perché mi guarderai allo specchio È come se io mi svegliassi magro per esempio Eh esatto Con 30 kg No io mi guarderai Essendo che mettevo anche dei cappelli Allora c'era quel periodo dei cappelli Mattevo cappelli Non facevo mai le code di cavallo Mai delle criste Perché non Avevo paura di Di mettere troppo in vista il nostro Bravissimo Quando poi mi vedi allo specchio Per la prima volta Stavamo dal dottore Che mi tolse le bende e tutto Io mi guardai Sai il brutto anatroccolo Quale devo dire Mamma mia C'è ti comma so bella Comma so bella Amavo tantissimo il naso E poi ringrazio il dottore In un modo esagerato Perché comunque A parte che ha fatto un lavoro ottimo Ottimo Dove comunque è molto naturale Non si vede Chi mi conosce Adesso Non si vede Non si vede Un granché Infatti poi Il dottore ha lavorato tantissimo Che ho mandato Parecchi Fan miei là Ah E' vero Perché è stato molto bravo Sei una donna a marketing C'è poco da fare Però devo dire Che poi dopo questo Ritocchino Alla montagnella Che tenevi sul naso Poi devo dire Che tu sei una fortunata Io lo dico sempre A tutti A te la telecamera Adesso ti metto alla prova E non so chi Dei due operatori A te la telecamera Può arrivare Fin sotto il naso Senza accusare E io ti odio Per questo Veramente Guardatela qua Guardatela qua Ma ditemi voi Arrivate Andate oltre Andate oltre Avvicinate Non scopre i difetti Delle schiaie Basta Basta Perché qui Non siamo passati Dal truccatore di Barbara Però guardate qua Ma non vi fa rabbia Sono truccata da sola Ma guardate qua Come regge il primo piano Fate un applauso Che c'è Vabbè Senti Allora Poi è arrivato Il grande successo Bello e buono È esploso Questo fenomeno Nancy Tu tra l'altro Sei anche un'icona gay Perché tu hai Tutta una popolazione Di gay Di lesbiche Di transgender Che impazziscono Per te E devo dire Che piacere al pubblico Omosessuale in generale È una bellissima È proprio Numaz Cioè nel senso che Quello è un pubblico esigente È un pubblico esigente E di quel pubblico Bisogna colpire L'immaginario Che non è una cosa Facile Perché quel pubblico Là vuole vedere Su di te Tutta una serie di cose Che poi riportano A vecchi attrici A vecchi cantanti A vecchie fotografie A vecchie immagini A vecchie cose Quando ti sei accorta Di avere Tutta questa popolazione Omo Dalla tua parte Allora Diciamo che Tutto ciò È arrivato dopo Aver inciso Vivi la tua vita Sì Che è una canzone Che ho scritto apposta Ecco per la mia amica Sara Finizio Che qua Ne parliamo troppo Che oggi è suo Compleanno E mi dedicherrei Anche un applauso Sì Incisi questo Questo brano Dove ci fu anche un video Sì Con la Sara Sì E dopodiché Il brano Diciamo che Lo posso dire qua Liberamente Ha dato anche forza A delle persone Che comunque Non avevano La forza Di manifestare Il loro Lato Diciamo Come dire Aiutami L'altra parte L'altra parte Infatti mi sono poi ritrovata Il loro lato migliore Il loro lato migliore Mi sono poi ritrovata E mi sono poi ritrovata A messaggi Nella mia pagina In Bacheca Dove ecco mi ringraziavano Per questa canzone E proprio perché Hanno ascoltato tantissimo Questa canzone Mi hanno poi amata Mi hanno fatto poi Il loro idolo Grazie a questa canzone Poi dopo Vivi la tua vita Nonostante ciò che Avevo già inciso Altri dischi Prima Dopo Ho avuto Un'affluenza Di persone Tantissime Sì sì Di tanti trans Tanti gay Che mi amano Mi guardano Veramente Allora Senti una cosa Dobbiamo ancora parlare Di un sacco di cose Dobbiamo parlare Di Vincenzo Sì Oggi è l'onomastico Del piccolino Auguri Auguri a Vincenzo Dobbiamo parlare Dobbiamo parlare Di Carminiello Eh sì Che è stato Il grande amore Carminiello Sei fortunato Hai trovato pure Il grande amore Capì Tra l'altro L'hai messo pure a dieta Oggi Carminiello Non l'ho messo io a dieta L'ha fatto l'uno Ah si è messo su la dieta Sì Ah bene Che in qualche modo È diventato L'uomo perfetto Poi Ecco Dobbiamo parlare Delle tue amiche Sì Però Io direi Adesso Seppino mi prepara Tre galassami Così ci prendiamo Una pausa musicale Va bene Tu ti alzi Al centro dello studio Questa è una canzone Bellissima scritta Da Toni Colombo Basta Toni Colombo Toni Colombo È una canzone Mi piace assai Ed è un pezzo d'amore Che si dedica Con grande piacere Io vado a fare Tranquillo Tranquillo Tra dedico La pipì Ti ringrazio Ci vediamo tra l'altro Grazie Allora Ma poi C'è il grande incontro Della vita Sì Ecco qua Volete inquadrare un po'? Bellissimo Bellissimo Questo è il grande incontro Della vita Sì Dove sta? Eccola qua Ecco E la mia cagnolina Voluta fortemente Mi raccontava la mamma Di Nancy Voglio cane Voglio cane Voglio cane Sì Perché io in effetti Me l'ha regalata Carmine Quando eravamo fidanzati Sei mesi prima Del nostro matrimonio Sì Mi facetto regalina Sì No datemi il cane In primo piano Guardate questa Ma sei tutta Guarda come stai in televisione Puoi stare così Allora Questa è la piccola Emi Sì Ed è un cane buono Tranquillo Guarda non fare i bisogni qua Sul divano ti prego Che non è il nostro E poi lo devo pagare io A euro affari Allora Dicevo È una cagnolina tranquilla No? Eh diciamo Tranquilla Tranquilla? Come lo diciamo? No Non proprio tranquilla Voglio dire Abbaia sempre E vabbè Ma è un po' della razza Sì La razza Lei per esempio Non abbaia mai Ma rompe comunque Eh vabbè Però comunque sia Lei abbaia molto Lei abbaia molto Anche di notte Anche di notte Anche di notte Ma poi insomma Erano Da quanto tempo Quanto tempo è durato Il fidanzamento importante? Dopo tre anni Ci siamo sposati Senti ma io so una cosa Poi non so se corrisponde alla verità Ma è vero che lui era un tuo ammiratore Ascoltava la tua musica Ma Rostò Sì Sì Ma chi è Rostò? Dove sta? Se ne è scappato Ma penso di sì Sì Era un mio fan Io facevo la trasmissione Con Nando Mariano Sì E una sera Siccome era agli inizi Voglio dire C'era il mio numero fan club Sì Dove mi chiamavano E rispondevo io Allora si portava questa cosa E immagina quanti messaggi Mi arrivavano dopo la trasmissione Il suo mi incuriosì Perché scrisse Già di solito sei bella Stasera lo sei molto di più Vorrei avere soltanto il coraggio Di dirtelo da vicino Allora io mi incuriosì Per non avere il coraggio Significa che comunque Mi conosce Ci conosciamo E non si è mai fatto avanti Ti conosceva che stava in televisione Sì pensavo che anch'io Lo conoscesse Ah che tu lo conoscessi E quindi ero troppo curiosa Un po' Ma come eri antica Non è antica Io non è che chiamavo Capito Le persone che mi chiamavano Perché comunque non conoscevo E adesso Come ti chiamavo Non so chi so Giustamente Io secondo me Penso di conoscerlo Allora Ci faccio E così magari Vedo Se lo riconosco Sì E niente Io parlavo Ma non conoscevo Perché Poi lui mi spiegò Che Mi aveva incontrata A Napoli A volte E macchina in macchina E siccome lui era Un timido Come carattere Non aveva il coraggio Di fermarmi Capito Ah Invece mi pensavo Che era tipo Qualche collega Qualche amico Non so Un cameraman Che magari avevamo avuto Confidenza E quando successe poi l'incontro L'incontro successe dopo Penso 15 giorni Perché dopo una settimana Allora Siamo stati per una settimana intera A sentirci Dovevamo vederci E Open net No Open net Perché Open history Open net Perché Dovevo fare il video Giustamente non lo so Perché era pensato Cosme O no Non lo so Sì lo dici tu Era pensato Cosme Dovevo fare il video Mi gusta bailar Ah Penso che Quel periodo Video gay Molto gay Una roba gay Piense se tu Poteva pensare A Carminella Avevi tutt'altro E niente E vabbè Ma io non lo conoscevo Nemmeno da vicino Ma infatti Io gli disse Guarda Quando avete fatta la prima esterna La di Filippi Eh dopo Conciccio Te lo sto dicendo Ci sto arrivando Di piano piano Eh Dopo 15 giorni Ci siamo incontrati Però io glielo dissi Guarda Tu mi piaci caratterialmente Ma tu a me lo sai Io a te no Quindi un appuntamento a buio Che meraviglia Dimmi dove Dove successe Dimmi dove successe L'appuntamento A Portici A Portici A Portici Ci incontrammo là Piazza San Ciro Più o meno Più o meno Ci andiamo a prendere un caffè Sì E niente Poi lì man mano Inizialmente non è che mi colpì Perché teneva panse Esteticamente No 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 Era magro Era un bel ragazzo Però non Io era molto Pasante Ma chi voleva Raul Bova Che c'entra Chi doveva venire lì No ma Tragite Ma scusa Ma io a così Mi chiamassi Nenzi Scusa Io sono difficoltosa Hai capito E proprio Fa parte di carattere Sì Insomma non è granché No vado Ma non Non tanto Non tanto Poi Prendemmo il caffè E mi piacevano i movimenti Era molto delicato Era molto elegante Era capito Mi affascinò Il resto Capito Il cara Come era fatto Sì E poi sai Tutta la serata Lui mi voleva invitare a cena Io gli dissi Guarda Io devo andare a ballare stasera Con delle mie amiche E lui per forza insisteva E io niente Non niente A ballare Era io a ballare E che la sera non ghietti più Però Capito Tutta la serata Che io parlavo Di lui Alle mie amiche Mi era rimasto Era successo qualcosa Sì Era dopo Dopo averlo No dico Era successo Nell'incontro Aspetta Che capito No ma non è successo qualcosa Era successo all'interno Era successo Che C'era Uno ti gira in testa Un colpo di fulmine Diciamo Un colpo di fulmine Che tu ci pensi Che tu ci pensi di tanto in tanto Pensi alle mani Pensi un as Pensi capil Punto Tu pensavi prima un as O primi capil Quando lo pensavi Cioè Ais Eh ais Non c'è ma crsk No né una Nella capilla Non c'èiam No, dico, quando quella sera ti ritrovasti con le tue amiche, qual era la parte che ti era rimasta impressa? L'eleganza L'eleganza Il suo modo signorile di porsi Quindi poi? E quindi tutta la serata dovevamo andare a ballare, poi non andavamo più e io dissi alle mie amiche C'è questo ragazzo che ve lo vorrei far conoscere, infatti io lo chiamai E poi lui stava già dormendo e non fu possibile Dopo due o tre giorni ci rivedemmo e poi da lì... E il primo bacio? Dopo tre giorni Subito? Subito, è stato Come le esterne di Maria di Filippi? E qui subito ce ne... La dicono sempre, fanno sempre sei sermoni, il bacio è importante, poi li danno come se fossero panini Dopo tre giorni, quando ci incontrammo sì, ci baciammo Allora, lui poi nel tempo, adesso è cresciuto Carmaniella, tu quando l'hai incontrato quanti anni c'aveva Carmaniella? Eh, io avevo 20, lui 22 20, 22 Poi sono passati un po' di anni, lui ha messo su un po' di pancia nel tempo Sì Poi all'improvviso non si sa né come e né perché, quest'uomo forse chiaramente per tenersela stretta non si atina perché non si atina Cioè, un pezzone di femmina Vabbè, Islamis l'ha tolto e io la faccio misa No, ma tu, quella è la tua forza, è un po' come la mia bruttezza Carmaniella ha detto, io devo fare qualcosa, devo dimagrire Belle e buona Carmaniella è diventato un bonazzo mega esagerato Vorrei sapere, che ha fatto Carmaniella? Me lo date un attimo in primo piano? No, ma qui era solo un po' di dieta e oggi, voglio dire che oggi ha anche un po' di fisico Voglio dire, sto facendo palestra Un po' di fisico? No, un po' di fisico perché poco che fa Un po' di fisico e la vera è un po' di fisico No, aspetta, un po' di fisico È stato il momento dell'attesa con tanto di pancione Fatemi vedere bene questa fotografia Perché le donne con il pancione sono una roba meravigliosa Facciamo un applauso a chi aspetta E vive il momento più bello della sua vita No, no, restate un po' sul pancione Allora, com'è stato con il pancione? Ma è stata una bellissima emozione Anche perché ovviamente per tutti i nove mesi Ogni mese è un'emozione diversa Perché dal primo, dal secondo, dal terzo Poi si sa il sesso E poi ci sono i primi movimenti Sono nove mesi veramente pieni di emozioni Perché comunque tu ci parli, ci vivi E quando poi lo vedi è tutta un'altra storia È comunque l'altra parte di te Io ho lavorato tutti i nove mesi Lo so, lo so Con il pancione Sei venuta anche a fare una cosa in televisione da me Eh sì E immagina che Bella, tonda, tonda eri Immagina che Sì, facevamo Bella, le invasioni Le invasioni, le invasioni melodiche Immagina che io cantavo e lui mi dava dei calci Diceva, non già faccio più Mamma mia Perché fine è l'ultimo Ah, io si diceva, non già faccio più, state ziti Mi dava dei calci Mi dava dei calci Secondo me, povero creatore Tutti i nove mesi Comunque penso che comunque all'interno loro sentano benissimo È certo che sentono E quindi Ma sentono pure quello che cantano gli altri però Eh, che vuol dire? No, nel senso che sentono Vivono, hanno una vita già da subito E quindi lui scacciava Anche lei, per esempio Fa uno strano movimento con le orecchie Cioè nel senso che quando siamo in auto E io metto un cd Che non piace Allora Visto? Hai visto? La verità Allora, no Se il cd La ragazzina sta andando per i fatti suoi E non ti fa niente Se lei gradisce Tesoro, amore Se lei gradisce il cd e l'artista Comincia a fare uno strano movimento con quest'orecchio Fa così Tu, 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 tu Se lei non gradisce l'artista S'abbatta A posto E io capisco che lei non lo gradisce moltissimo Senti, ma so che Vincenzo vuole un fratellino Sì Mi ha chiesto un fratellino Ma già da un bel po' Vuole un fratellino o una sorellina? No, no Mi ha chiesto il fratellino Con le sorelline Non lo vuole proprio sapere No, niente No, ha detto E tu ci stai pensando? Io ci sto pensando Sì, perché io amo Ma io Sempre perché ho questo lavoro Che mi tiene comunque frenata E ho tante cose da fare Altrimenti già l'avrei fatto Un altro bambino Però comunque è in programma Ci sta Ci sta Sì, sì, sì Non è che me lo stai nascondendo adesso No, no, no Non c'è Ti prego Dimmelo in anteprima No, ma io l'ho sempre detto Non è che lo vai a dire a VIP Ma sei pazzo Lo vai a dire a Novella 3000 Quelle robe là No, no, no Anzi Il giorno che avrò questa bellissima notizia Lo scriverò subito sulla mia pagina Ecco Perché tu scrivi tutto su quella pagina Tutto 152 mila 152 mila E tu passi le notti a parlare con questi qua Di che parli con questa gente? No, io in effetti non è che riesco a parlare un po' con tutti Cerco di rispondere a volo Con bacini Grazie mille Cioè per accontentare un po' tutto Cioè la cosa più frequente A parte Sei lido Sei bellissima Mi piacciono le tue canzoni Vivo nelle tue canzoni Dico ma c'è qualcuna che ti dice Che ne so Oggi mi sono scassata una coscia Mi sono scassata l'auto Mamma Tante persone che mi raccomano Mi parlano proprio di loro Della loro storia Magari Chi ha subito degli interventi E che grazie alla mia musica Riesce ad andare avanti Ci sono persone che magari ecco Hanno avuto storie un po' difficili Con i propri mariti Con la propria famiglia Chi è appunto ragazza madre Mi spiega Mi parla un po' della storia Io quando posso Cerco di dare dei buoni consigli Essendo mamma Allora qui ci sono due foto bellissime Con Vincenzo Piccolissimo Queste sono due foto Che mi piacciono proprio assai Una è naturale Eri a casa in clinica ancora Dove eri lì? Allora lì ero in clinica Vincenzo aveva pochissime ore di vita E poi E io ero già truccata Tu eri già? Truccata Truccata da chi? Io Mi alza Io sono proprio capito Sai come se c'essero Ciucci e fatica Cioè tu te alzasti per truccarti? Sì perché avevo delle visite Giustamente Mi preparai un pochettino Anzi questa è una cosa apprezzabile Un artista dovrebbe sempre far caso a queste cose E poi dall'altra parte siete flashati Di chi è questa foto? Allora lì Di Nilo Nilo Sciarrone Qui stavamo facendo il video O figlio mio Vincenzo aveva tre mesi Quindi dopo tre mesi Come faceva sta O figlia mia Sta ma mezzi scala E te Come era o figlia mia? Non ho capito Cantami un po' di o figlia mia Ah mezzi scala Sento che nel mio pancino Vivi un'altra vita Che fa parte di me Come forte l'emozione Si pensa un momento Che la già avrei E mi immagino che l'occhio Bello come il sole A chi può assomigliare Io cuore mia Io figlia mia Tutta per Vincenzo Ovviamente tanti auguri ancora di buon onomastico Allora E adesso apriamo un altro bel capitolo Della vita di Nancy Queste sono le amiche Sì Intanto vi faccio vedere due foto glam Fashion Fatte ultimamente Perché questo signore Soprattutto Rosa Pezzella Ha incontrato Francesco Monte E da quando ha incontrato Francesco Monte A vita di Rosa Pezzella E cagnata a vita di Rosa Pezzella Francesco Monte ha cambiato la vita di Rosa Pezzella Allora Non vai a capire perché gliel'ha cambiata Allora Allora Una cosa E quando l'altro L'altra volta Quando sei venuta in radio Io l'ho presa in giro Su questo salto di Francesco Monte Lei poi mi disse Tutta soddisfatta Alla fine dell'intervista Me lo sono portata a casa E sta trinda cucina mia Ah ci spieghiamo questa cosa Qualcuno si pensa Che è stata No L'abbiamo portata Facciamo credere che Rosa Pezzella Ha fatto un incontro Meraviglioso Con Francesco Monte A nanzo lavandino C'è la mamma C'è la mamma che guarda Capito Giustamente E me è Francesco Monte Non è mica Allora se è Francesco Monte Allora Ma la mamma si incazza per il lavandino O per Francesco Monte Eh Può darsi proprio lavandino Può darsi proprio lavandino No E cosa ha cambiato questa Nella vita di Rosa Pezzella Francesco Monte Diciamo che Francesco Monte È un ragazzo che Rosa mi ha sempre parlato Che gli piaceva proprio come Prototipo Tipo di uomo Poi noi avevamo amicizia Con Francesco Fischetti Certo Che è uno che sta benissimo Con Francesco Lo porta lui Lo gestisce lui E avevamo quest'idea Dopo il brano scritto Insieme a Rolando Riera Che è qui negli studi Il mio uomo perfetto Il mio uomo perfetto Io gli farei un applauso A Rolando Con la fidanzata Qui presenti Dopo che scrivemmo questo pezzo E creiamo questa storia Di questo duetto Sì Dove c'era la Nancy E la Nunziatina Dove Nancy lo voleva In un certo modo E la Nunziatina Magari in un altro Pensiamo poi Questo Chi può essere L'uomo perfetto E se c'è Francesco Monte Ah lo voleva proprio Ah lo voleva proprio Lo teneva proprio un capo Allora Pidiamo Vediamo se è possibile Pidiamo Francesco Monte E da quel giorno È cambiata la vita di Rosa E meno male Ve è beata lei Allora Volevo dire una cosa Poi accanto a Rosa Pezzella Nunziatina E al centro C'è Sara Finizio Che è un altro incontro Importante Della tua vita Sì Questa Sara Finizio Io conosco Sara Finizio Da un'eternità Ah ma anche io Anche io Diciamo che siamo cresciute Un po' insieme Mi date un primo piano Della Finizio Che sta dietro di me Finizio Fatta veri tesoro Non lo so Sorridi alla telecamera Allora Sara Ecco No Sara Diciamo che Rosa Pezzella E Sara Finizio Sono un po' Come dire Allora Io dico sempre Che loro A parte l'amicizia A parte l'amicizia Che comunque È tutto Io Siamo amiche da anni E penso che Per durare Con Un'amicizia Per durare così tanto Qualcosa c'è Vuol dire che Veramente C'è la base Sotto Credo ci sia una forma Di rispetto Sì A parte questo Per quanto mi riguarda Il mio lato artistico Loro mi Mi completano Insieme Sara Gestisce tutto Il mio lato estetico Fra capelli Look Eccetera Rosa è molto brava Con la grafica Tipo Mi scordo Che ho cose Che sono A volte un po' Capito Lei mi Mi prende il cd Mi porta la chiavetta Con le canzoni Capite È quella che comunque Gestisce un po' Tutta la cosa Diciamo il mio Secondo me Manager È rosa Per quanto riguarda Il lato artistico Sara invece Tutto l'immaginario Sì Tutto per quanto riguarda L'immagine Tutto l'immaginario Tutto l'erotico Tutta la foto Per il mio concerto Mi ha fatto dei capolavori Una testa Dei capelli Stupendi In pochissimo tempo Anche perché Ci furono cinque cambi Sì Tra una canzone e l'altra Sì E lei In tre minuti Ecco dovete fare Delle teste Un po' più particolari Ok E quindi poi Ha avuto dei Dei gran complimenti Da grandi personaggi A parte questo Poi come amiche Sono stupende Perché veramente Ci siamo dette Di tutto e di più E posso dirlo Che dopo anni È rimasto comunque Con noi Ovviamente le cose Che si dicono Le amiche È certo Che magari non lo dice Alla prima che capita Tu ce l'hai ritta A Rosa Pezzella Che Francesco Monte Non sa lo sposare Francesco Monte Fa amore Vado a dire Che signore fa amore Uno fa amore Con tanta gente Magari non gliel'ha chiesto Chi ti dice a te Che non sa lo sposare Vedi la illudi Non sei una buona amica Allora Adesso volevi dire A Pino Sì Visto che abbiamo parlato Di Francesco Monte Sì Di preparare il video Del mio uomo perfetto Sì E poi parliamo Di una cosa Importantissima Perché poi Ad un certo punto Non si attina È diventata La regina di Napoli È successo Che solitamente Troppo buono I cantanti maschi Avevano segnato delle tappe importanti Nella loro carriera Per cui fatto i grandi palazzetti dello sport E roba varia A un certo punto Arriva Non si attina Forte Di un gruppo d'ascolto Immenso Decide di fare un concerto Al Palapartenope Sì E mette insieme Quasi Cinquemila persone Esatto Che voglio Salutare a tutto quando A una e a una A tutto quando Perché io li conosco Veramente Cinquemila Veramente li conosco Uno ad uno E di questo parliamo Tra pochissimo Io non so se Pino ha preparato Se mi fate un cenno Ok perfetto In questa busta Guardate qua È un po' sgualcita Questa me l'ha portata Rosa Pezzella Stamattina A tenere l'unziatina a casa Sì Questa è mia persona Ci sono Tutti i ricordi Più importanti Del concerto Al Palapartenope E li vediamo Tra poco Mercoledì deve fare pipì Torniamo tra pochissimo Metti il video Una Nancy Non bastava Ce ne volevano due Esatto Ecco E qui c'è anche La furbata La figata Di duettare Con se stessa Cioè Nancy Coppola Che duetta Con un'unziatina Allora Quasi chiusura Ma scusami Scusami Allora Prima che Nel frattempo Della pubblicità Del video Io volevo ringraziare Patti La brasiliana Che mi ha regalato Quest'anello Bellissimo E volevo salutare Anche Mary Quindi grazie ragazze Grazie mille Di Tricch e Ballacche Un bacio forte Saluti Fai vedere la mano Eccola qua Tricch e Ballacche Che mi ha dato anche Questi orecchini stupendi Vedate un attimo La mano di Nancy Posso avere in primo piano Antonio La mano di Nancy Ci sei? No No Ah gli orecchini Eccoli qua Ah C'ho gli orecchini La mano Grazie mille Perfetto Allora Dicevo A un certo punto Nancy diventa La regina di Napoli Della Campania Una donna Che decide di fare Un concerto al Palapartenope E mette insieme Quasi 5.000 persone Qualcuno dice E vabbè Ma quella Nancy Se le è andate a prendere Porta a porta E andate voi Porta a porta E portate 5 persone No? E certo In un palazzetto dello sport Anche perché Tu puoi dire alla gente Guarda Vieni gratis Io ti offro una cena Ma se la gente Non vuole venire Ti dice Non sia a te Vai non venga proprio Gio E invece Credo che in quel caso La gente ti volesse dimostrare Tutto l'affetto E tutta la stima possibile Questa busta È la busta È la busta Dei ricordi di Nancy Di quel concerto Di quel giorno L'unica che poi In effetti mi è rimasta Ecco Adesso ti devi Abbordare Caccio delle cose E te le va mettere Ah me le metto Ok Signori La fascia in testa Una mano Silvio Berlusconi Te le va mettere tu Ecco qua Questa è la fascetta Che molti avevano Quel giorno Al concerto di Nancy Ecco qua Questo è il famoso Passi Ecco qua Questo era per gli addetti ai lavori Diciamo Per gli addetti ai lavori Scusatevi Te lo faccio vedere Ti va mettere un pollo Di tutto posto Ti va mettere un pollo Molto bene Poi Signori I biglietti Questi sono gli inviti Che ho fatto Sempre per i miei colleghi Ecco qua Perché c'erano un po' di colleghi Qualcuno cantava con te Due stava con te Qualcun altro Invece si è visto Tutto lo spettacolo Era ospite Sì 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 Molto piacevolmente Miettiti i biglietti a mano Molto bene Molto bene E arriviamo al pezzo forte Mercoledì stai buona Ecco qua Questa La mia maglia La magliettina Di quel giorno Anna Raimo Ce l'hai tu? Ci sta Anna Raimo? Certo Ce l'hai tu? Eccola qua Mi metto tu questo E ce la metti addosso Vabbè mi metto così addosso Sì Copriamo un po' le gambe Sempre quelli che Come si chiamano Quelli che vendono i biglietti Fuori a San Paolo? Bagarini Grazie Allora Poi aspetta Caspita Mamma mia Ci sono delle ragazzine Qua Che me l'hanno regalata Allora Questa Tenetela Allungatela voi E fatela vedere bene Nel verso giusto In modo tale Che da casa Si possano rivivere Si possa rivivere Quella giornata Magnifica Dove c'è Nenzi Aspetta Anna 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 Non ti perdere Si è emozionata Anna Ecco qua Ecco qua Allora Dove c'è una frase bellissima Qual è la frase? Non siamo state noi a sceglierti Mi è stata la tua voce A farci innamorare di te Grazie di esistere Questa è un'altra Tanti che nessuno sa Non ho mai visto l'adesivo di Nancy Prego Questo è l'adesivo E poi in conclusione Il regalo Perché ci sembrava anche giusto Questo è il cd che la Zeus Ha fatto uscire Dopo il concerto Ed è il cd dal vivo Di Nancy Facciamo un applauso Qui c'è il cd e il dvd C'è il cd e c'è il dvd Che poi tra le altre cose TV Campane 1 Ha messo in onda molte volte Per il piacere di Carminello Esatto A proposito E poi c'era anche una calamita Che non c'è Perché penso Ce l'ho Al frigorifero No pensavo Vuoi vedere Ho perso la calamita No 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 Arrivato in chiusura Adesso succede una sorpresa per te Sì Però volevo dire Che io sono proprio contento Di aver fatto questa cosa Grazie Perché Anche perché sono anni Che volevamo fare una cosa insieme Sì E in questa occasione Visto che Lo vedete tu Lo dico io No dillo tu Visto che dal 2004 al 2016 Sono 12 anni di carriera L'avrei detto un po' L'avrei detto un po' E quindi visto che adesso È l'ultima puntata stasera Sì Anche perché poi Già da domani inizia La mia lunga Il mio lungo percorso Lavorativo Maratona istitua Esatto Maratona istitua Mi ha fatto piacere di Inaugurare Sì Questa apertura Di questo nuovo album Per questo mio anno Piero di lavoro Sì E quindi grazie a te Per la tua venuta Per la tua prestazione Voglio dire Grazie A questa trasmissione E volevo un applauso Forte per l'Ettore Che si è prestato Si è prestato tantissimo Ha lavorato tantissimo Però devo dire una cosa Che Allora Ci tenevo a dire questo Che quando faccio la televisione Io Mi muovo molto sul filo Dell'ironia E della provocazione Sì Però quando Ho chiesto a Nancy Di fare questa cosa È perché Ritengo che ci siano Artisti Che abbiano La capacità Di raccontarsi E la gente Conosce troppo poco Degli artisti napoletani Perché non ci sono Le vetrine giuste Non c'è Giletti A Napoli Che la domenica Poveriggio Ti fa sedere Sulla poltrona E ti permette Di raccontarti E allora Ho messo Ho lasciato a casa Tutte le mie Provocazioni A volte stupide Tutta l'ironia Che non è mai stupida A volte fra intese Perché ti aiuta A campare Certo E ho preferito Che Nancy Si raccontasse Perché secondo me Tu Te lo meriti Grazie Te lo meriti E Credo Te lo meriti Tu E se lo meritano Tutti quelli Che ascoltano La tua musica Grazie Allora Adesso Se Pino mi prepara Mi chiamo Nancy Parte Mi chiamo Nancy Non so Chi fa entrare La sorpresa Rosa Chi si è organizzato Per far entrare Il Tutto Il fatto Meraviglioso Vi pregherei Non sporchiamo Il divanetto Che lo pago io Ad Euro Affari Domani O Carmaniela Ma costa assaiissimo Il divanetto Quindi mettiamo E la sorpresa Lì al centro È una torta È una torta pazzesca Chi l'ha fatta Allora io volevo Salutare e ringraziare Lino Gravina Che mi ha omaggiato Di questa torta Bellissima È una meraviglia Veramente l'ha fatto In poche ore Ecco qua Vogliamo ringraziarlo E si trova A vendita a dettaglio Sì È fornitore bar In Malavia Dove sta? A Rinaccia Presso la Rinaccia Quindi Lino Gravina È una torta Bellissima Superda Allora Con il numero 12 E beh insomma Il numero 12 Perché sono 12 anni di carriera Esatto Allora Tu adesso spegni Le candeline Esatto Perché adesso Dobbiamo fare la cosa Ma guarda Si può dire Il desiderio Che si esprime o no? No dai No Allora no Ok lo penso Però ti do il tempo Per pensarlo No già lo so Eh vabbè Prenditi qualche secondo Facemmelo poche Facemmelo poche scene Ok facemmo a breve Allora Concentrati E pensa a un desiderio Una roba importante Ecco Per la carriera Stai pensando O stai pensando Al fratellino Per Per Vincenzo Che stai pensando O stai pensando Che Carminelli Si è fatto vecchio E lo devi cambiare Si è fatto vecchio Si è fatto vecchio Carminelli E lo devi cambiare No Allora No lo voglio dire Fammelo dicere Dai Allora Visto che comunque sia In 12 anni Si La maggior parte dei miei sogni Si sono avverati Tra cui avere un figlio Bellissimo Un marito Stupendo Una carriera brillante Si Mi auguro che magari I miei 12 prossimi anni Si Possano replicarsi Bene Applausi Fatto 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 Allora Allora Io Grazie a te Ringrazio te Ah si A terra Fratelli Marigliano Dove sta Dove sta Guarda C'è solo 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 Auguri Enzo Allora Grazie a tutti Se Pino Fontana Adesso Gentilmente Stoppa un attimo La musica Perché vorrei concludere Con Tregalass A me Che credo che sia Una delle più belle canzoni Uscite Insomma Nell'ultimo periodo Voi ci spiate un po' Cioè diventiamo Grande fratello Va in onda La canzone Voi vi avvicinate Magnata torta Quindi nel frattempo Apriamo anche Sì E questo lo facciamo Con la musica In sottofondo E voi a casa Insomma Brindate con noi E mangiate una fetta Di torta con noi Grazie a tutti Alla regia Grazie a tutti Agli operatori Buon anno